Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, martedì 10 di gennaio, siamo nel 2017, questo anno davvero cominciato con tanto freddo, tantissimo freddo che ancora persiste in tutta la nostra regione, come vedremo tra poco con le previsioni del tempo, ma adesso partiamo dal santo del giorno, come di consueto, e vediamo che santo ricorda oggi la Chiesa Cattolica. Oggi si fa memoria di San Gregorio di Nissa, il sole è sorto alle 7.40 e tramonterà alle 16.51. Il cielo oggi sarà nuvoloso e ci saranno anche delle precipitazioni con deboli nevicate fino a quote pianeggianti più probabili durante le ore centrali e sulla fascia costiera. Le temperature sono in diminuzione, i venti di brezza tesa dai quadranti orientali. Per la giornata di domani, mercoledì 11 di gennaio, nuvoloso, con attenuazione della nuvolosità dal pomeriggio sera, possibile ancora deboli nevicate fino a quota pianeggiante nella prima parte della giornata, quindi domani mattina. I fenomeni poi invece si esauriranno nel pomeriggio, le temperature minime sono ancora in lieve diminuzione, quelle massime stazionari, i venti di brezza tesa da nord. Per la giornata di giovedì 12 di gennaio avremo un cielo sereno poco nuvoloso, ma con aumento della nuvolosità stratificata nel corso del pomeriggio. Probabili deboli piovaschi in serata sulle zone appenniniche, nevosi sulle cive più alte. Le temperature sono in leggero aumento. Dal pomeriggio di venerdì c'è un nuovo peggioramento però per l'arrivo di una perturbazione atlantica, che è la situazione instabile per tutto il resto della settimana. E come dicevamo ieri nel corso del telegiornale, nel collegamento che abbiamo come di consueto in questi giorni, meteorologicamente parlando, un po' difficili con il nostro esperto Cangiotti, ci diceva che la giornata di giovedì è probabilmente quella un po' più tranquilla, dove anche le temperature saliranno leggermente. Poi dopo, come dicevo, appunto da venerdì si ritorna con il cattivo tempo. Adesso andiamo a leggere i giornali invece. Il Corriere Adriatico e il resto del Carlino sono i due quotidiani, sono le edizioni di Pesaro. Cominciamo proprio dal maltempo, con l'allerta meteo che è stata lanciata nelle Marche, da oggi neve e ancora gelo. Fiocchi anche sulla costa, emergenza fino a domani, allarme mareggiate, sparita la spiaggia nel sud delle Marche. Poi il Tribunale, che ancora è nel caos, va stretta la nuova sede, poco spazio, occorrono altri locali, bonifica, una corsa contro il tempo, ci vorranno ancora diverse settimane di lavori. E vediamo proprio nella pagina 2 il titolo del Corriere Tribunale, i giorni del caos, coinvulsa, ripresa dell'attività dopo il trasloco. I locali del giudice di pace sono troppo stretti, occorrono altri spazi, sono state rimandate le udienze, i faldoni non sono ancora bonificati. Per riaprire il Palazzo di Giustizia, tre settimane, come dicevo, di lavori. E tra i processi rinviati c'è anche quello del processo Lulli, rinviato al 15 di febbraio. Era prevista per domani con la ricostruzione in 3D della difesa. Nell'occasione, durante il dibattito, saranno anche ascoltati ulteriori testi. Naturalmente stiamo parlando del processo Ismaele Lulli, il giovane 17enne di Sant'Angelo Invado, ucciso barbaramente, ormai qualche anno fa, da due persone. Poi si parla sul Corriere di questa mattina anche del nuovo Consiglio Provinciale, che è stato eletto nelle votazioni un po' così farsa, se vogliamo dargli un nome. Perché? Perché c'è stato questo inciucio tra il PD e Forza Italia. Tutto ormai era stabilito, quindi la farsa era quella di andare a mettere giù la scheda nell'urna. Comunque, il listone lancia la coppia PNP, ma la provincia diventa un caso. Pascuzzi, naturalmente PNP sta per Pascuzzi e Paolini, che sono i più votati tra gli amministratori. Pesaro a bocca asciutta, l'alleanza PD-Forza Italia, però, come dicevo, fa discutere in termini di preferenze il primo stato Paolini con 47 voti. Il patto Tagliolini-Gambini porta a casa rappresentanti dell'entroterra, Fano strappa un consigliere. E adesso, invece, la pagina in primo piano sulla questione del maltempo. Guardate la fotografia che dice molto su come stanno andando le cose, soprattutto nel sud della nostra regione. Neve e gelo, ci risiamo, ancora due giorni di allerta meteo, con fiocchi fino a bassa quota e anche sul lungomare. L'allarme della Coldiretti e della Copagri, a rischio gli animali, soprattutto nelle zone terremotate. Dalle 6 di oggi fino a mezzogiorno di domani, c'è un allerta meteo della protezione civile. 100% i cali di produzione in molte aziende agricole e allevamenti. Oggi l'arrivo ad Ancona del ministro Maurizio Martina. E poi, dicevamo, c'è l'allarme anche per le mareggiate. La costa è sotto attacco. Tra un mese l'appalto, invece, per il lungomare sud di Porto Recanati. Mentre vedete le previsioni per la giornata di oggi, domani e di giovedì, che il Corriere ha pubblicato sulla pagina 7 con lo schema e i simboli. Vedete, nel pomeriggio sono previste sia oggi che domani deboli, nevicate anche a bassa quota, soprattutto in serata. Fan Urbino, alto là dell'assessore Biancani. All'asta il tratto Fanese ed alcune stazioni. Il consigliere regionale si oppone. Regione e provincia diano parere negativo. Il piano di ripristino è fattibile. Biancani, il percorso non si può spezzare. Dice spezzettare se vogliamo recuperare l'intera tratta ferroviaria. E adesso la pagina di Fano, invece, del Corriere Adriatico. Il mercato ittico vede calare il suo fatturato. Il porto è in crisi. Parla il direttore Angelo Nardini, che è il direttore del mercato ittico, all'ingrosso e dice che è inconcepibile che ancora non è disponibile la cassa di colmata per trasferire i fanghi che, sappiamo bene, ormai da anni ostruiscono l'entrata e l'uscita e quindi il regolare funzionamento e svolgimento dei lavori, delle uscite, entrate, appunto, delle barche al porto di Fano. Non c'è funzionalità e così la pesca muore. Siamo con l'acqua alla gora. Gli armatori sono incentivati a smantellare addirittura le barche. E se pensiamo a com'era la nostra flotta qualche anno fa, qualche decennio fa, insomma, oggi viene davvero da piangere. I 5 Stelle, invece, sulle tasse, tasse su per l'indice Istat, c'è la deflazione. I 5 Stelle contro l'adeguamento delle rette al costo della vita. Seri, dicono i 5 Stelle, le aumenta a tutti. Andiamo sull'altra pagina. Resiste l'unica banca locale, ora non vogliamo fonderci. Stiamo parlando della banca di credito cooperativo di Fano. Parla il presidente Romualdo Rondina, che rivendica i requisiti per l'autonomia. L'istituto aderisce alla capogruppo Icrea, che diventerà SPA, un salasso i contributi al sistema. Poi la cronaca scappa all'alta della Guardia di Finanza e finisce nei guai. Un giovane ubriaco commette varie infrazioni stradali, si schianta e viene però acciuffato dalle fiamme gialle. Il Carnevale, invece, corteggia i camperisti di tutta Italia. A febbraio, raduno nei tre fine settimana, dal venerdì alla sfilata di domenica. L'accoglienza è curata dal camping club, con visite al mercato del pesce e anche della città. Poi, ancora dal Corriere, la Valle del Cesano. C'è questo ponte che comincia a prendere forma. Stiamo parlando del ponte che è crollato sei anni fa sul fiume Cesano. È stata posizionata, vedete, la trave centrale, accumulati mesi di ritardo. Il ponte sul Cesano ha preso forma, si prevede la chiusura del cantiere in primavera. I lavori erano stati sospesi ad ottobre, in seguito al rinvenimento di cinque ordigni bellici, residuati bellici per consentire dunque la bonifica. La campata d'acciaio misura 40 metri, l'infrastruttura complessivamente invece sarà di 100. E poi c'è ancora cronaca sulla pagina della Valle del Cesano. La cronaca è che ci porta a Saltara, ha avuto un malore al volante, un saltarese purtroppo non ce l'ha fatta un uomo di 63 anni. Si tratta di Maurizio Pasquini, residente a Saltara, si era sentito male. Poco dopo le 21 si trovava al volante, mentre si trovava al volante della sua Seat Leon. E poi la burrasca, il vento freddo sfidati a cavallo del windsurf, spettacolo per i marottesi sul lungomare. Tra i sette coraggiosi c'era anche l'assessore Caporaletti che dice Ci piace ritrovarci insieme ad affrontare le condizioni di vento più estreme perché è proprio in giornate come queste che i servisti danno il massimo. Caporaletti dice anche abbiamo aspettato il vento forte per metterci alla prova, però sempre chiaramente in sicurezza. L'ultima pagina è quella di Senigallia, il freddo anche qui in primo piano con il freddo che ha provocato il guasto di una caldaia in un asilo. Termosifoni out, i bimbi al gelo nell'asilo, freezer, ritorno in classe da brividi al nido della cannella. C'è chi ha riportato a casa i propri figli, mentre l'assessore ai lavori pubblici Enzo Monachesi del comune di Senigalli dice la scuola è stata riaperta, la scuola Puccini, dopo i lavori di messa in sicurezza. E adesso invece andiamo sul resto del Carlino. La prima pagina è per l'economia pesarese che resta a terra per la CNA. Si è chiuso un altro anno negativo, meno imprese, meno occupati, però brillano piccole aziende meccaniche. La BMG mette un aereo davanti alla sua fabbrica e poi un infarto fulmina a 62 anni, lo fulmina davanti agli occhi della moglie. È un 63enne che stramazza dopo aver cambiato una gomma. Tragedia a Fermignano e sotto TKV, fallimento per la grande cooperativa, bruciata dalla voglia del mattone. Un buco di 30 milioni, salvati comunque i posti di lavoro. Poi il Tribunale, rischio caos, linea dura dell'ARPAM, chiusura e trasferimento. Mentre i sindacati si dicono preoccupati per banca Marche, Ubi chiede più esuberi per acquisire ed è dunque allarme. Andiamo dentro però il quotidiano, apriamo subito la pagina di Fano. Si parla di carnevale in primo piano e terrorismo. La mappa dei divieti. Cinque varchi totalmente interdetti al traffico tramite il posizionamento di mezzi pesanti. Dunque il carnevale finisce sotto la lente di ingrandimento della prefettura di Pesorurbino. Quindi ci saranno in qualche modo dei punti in cui verrà chiuso l'accesso, verrà controllato. Quindi sarà un carnevale certamente sicuro. Ieri c'è stato questo summit, questo incontro tra la carnevalesca e l'amministrazione comunale. Sono stati individuati cinque accessi che saranno totalmente interdetti al traffico e da tre a cinque varchi di ingresso per il pubblico a piedi. Il sindaco Massimo Seri dice che non c'è alcun pericolo ma è giusto che nulla sia lasciato al caso. Anche perché dopo aver visto tutto quello che è successo con l'assembramento di così tanta gente, davvero questa è una situazione che può far gola, ma lo diciamo non per creare inutili allarmismi, non c'è nessun inutile allarmismo, però è un dato di fatto. Su Via Cavour pronti a mettere un milione di euro, invece il dibattito sulla ZTL, l'amministrazione chiede ai commercianti di proporre delle idee. Sinistra Unita dice pedonalizzare Via Cavour è una grande opportunità, mentre Fratelli d'Italia dice no, questo sarebbe un enorme sbaglio. La crisi è come quella del 29 e i risparmiatori temono. È la fotografia del presidente della BCC Romualdo Rondina che parla anche di segnali positivi. L'economia sta tenendo l'immobiliare a recupero, il manufatturiero è in ripresa, però c'è anche un momento per fare critica. Siamo costretti a dare soldi alle banche in difficoltà invece che al territorio e dunque alle persone che ne hanno bisogno. Poi andiamo sull'altra pagina del resto del Carlino. Un ubriaco che forza un posto di blocco e un posto di controllo e finisce contro i cartelli stradali. Una folle corsa nella ZTL di un neopatentato che è stato braccato a Fano dai finanzieri. Siamo nella zona del Lido, in Viale Cairoli. Durante la scorribanda ha anche bruciato un rosso, nel senso che è passato con il rosso e distrutto l'auto. Poi ha cercato di fuggire a piedi, però come abbiamo detto è stato preso dalle fiamme gialle dagli agenti. Cambia una gomma, si accascia e muore. Un 63enne di Calcinelli è stato colto da infarto a bordo della sua auto a Monte Marciano. Come dicevamo, la vittima è Maurizio Pasquini, 63enne di Saltara. È successo ieri mattina alle 10.30 quando l'uomo ha chiesto l'intervento del 118 in via delle Grotte a Monte Marciano. Subito dopo il cambio della gomma, del pneumatico, ha chiamato l'ambulanza perché si cominciava a sentirsi male. A San Costanzo invece domenica c'è una festa, tutto pronto per il Patrono. Ci sarà anche il Vescovo Trasarte, la festa del Patrono che si celebrerà domenica prossima appunto a San Costanzo. E adesso l'ultima pagina, eccola qua, quella sempre del resto del Carlino. Da Sant'Angelo in Vado, Luzzi non ci convinci, la minoranza replica al Sindaco, mentre a Fossombrone l'opposizione contro Saverio Bossi è passato con i grillini. L'accusa è a capo di un comitato, invece si spinge a fare anche valutazioni di tipo politico. Sul caso ospedale ci sono tante altre cose da chiedere alla Regione, oltre ai 20 posti letto previsti. Direi che possiamo fermarci qui per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi è tutto. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata. Vi ricordo che stasera c'è il telegiornale Occhio alla Notizia alle 20 e 30. Vi ricordo anche che in questi giorni stiamo effettuando dei lavori tecnici ai ripetitori, perché il giorno 12, entro le ore 10, verrà spenta l'attuale rete di trasmissione e verrà immediatamente riaccesa in una nuova rete che è molto più ampia, perché coprirà tutta e servirà tutta la Regione Marche, lo abbiamo già detto nei giorni scorsi. Dunque Fano TV diventa regionale, Fano TV sarà visibile in tutta la Regione Marche, sempre sul canale 17, però in vista di questi lavori ai ripetitori è probabile ed è facile che qualche televisore dovrà essere risintonizzato. Per questo motivo noi siamo sempre qui a disposizione, il numero di telefono lo conoscete 0721 86 14 33, se avete bisogno di qualche informazione cercheremo di esservi utili laddove possiamo farlo, però ecco quello che voglio dire è di stare tranquilli che risolveremo tutto. Dal 12 di gennaio tornerete, chi non ci segue perché ha qualche problema con l'antenna, perché c'è qualche interferenza con la Croazia, insomma spegneremo la rete disturbata e ne accenderemo una completamente nuova e una completamente libera da disturbi, quindi teoricamente anche quelli che adesso hanno qualche problemino con l'antenna o comunque ci vedono un po' così così, pochi eh, però quei pochi che ci vedono così così, dal 12 di gennaio ci vedranno perfettamente e in più avremo tanti altri nuovi telespettatori un po' sparsi in tutta la Regione perché comunque il segnale sarà visibile in tutta la Regione Marche. Grazie davvero per il vostro affetto, per il vostro aiuto, per il vostro contributo in termini di solidarietà, chiaramente di affetto che ci mostrate anche con le vostre telefonate, con le vostre mail, che a noi fanno sempre molto piacere, davvero. E quindi andiamo avanti insieme per questa nuova sfida. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.